Minacce e sberle ai bambini di una classe elementare e l'accusa che pende sul capo di una maestra della scuola Pitteri di Faradisonzo sospesa dall'insegnamento per sei mesi dal GIP di Gorizia come misura cautelare adottata al termine di indagini dei carabinieri avviate dopo le confidenze di alcune mamme. Gli investigatori hanno accertato che l'insegnante aveva instaurato in classe un clima mortificante e insostenibile con ripetute minacce, offese, ceffoni sulla nuca, urla e umiliazioni come reazione agli errori commessi dai bambini durante l'attività didattica. Secondo gli investigatori la difficile situazione creata sia all'interno della classe aveva spinto i bambini a mantenere durante le ore di lezione un timoroso silenzio per paura delle ritorsioni dell'insegnante. Un clima che ha causato tra i bambini più sensibili un crescente stato d'ansia tanto da confessare ai genitori di non voler più andare a scuola. Grazie.